Fine settimana all'insegna delle manifestazioni di carnevale ovunque, tante le feste oltre che per le strade cittadine e anche nei centri commerciali e nei negozi di giocattoli. In particolare a Modica, da Toysin, si festeggia il carnevale in maschera e la festa prosegue con la collaborazione degli organizzatori del carnevale di Donna Lucata. Una grande festa per tutti i bambini ma anche per i più grandi. Quest'anno è pieno di tantissime iniziative, abbiamo collaborato con i centri commerciali di Ipercop e del Malserie dove sono stati dati tantissimi gadget a tutti i bambini che hanno partecipato. Ma la cosa più importante è che domenica mattina in Piazza Italia, grazie a una collaborazione con gli organizzatori del carnevale di Donna Lucata, ci sarà una grande festa con premiazioni a bambini, sfilate ed animazioni per tutti. Questo non basterà farci fermare perché continuiamo con la nostra iniziativa più importante che si terrà a Modica, al nostro negozio del Plaza Shopping, dove ci saranno tantissimi giochi a cura praticamente dell'Oretorio dei Salesiani. L'animatore in questo caso è Daniele che è bravissimo, organizzerà circa 20 giochi per tutti i bambini e anche in questo caso saranno dati tantissimi regali per tutti i bambini che interverranno. Grazie a tutti.